Benvenuti all'appuntamento mensile di strategia da parte di PICT Asset Management. Archiviamo il mese di aprile con performance positive sia per i rischi asset azionario in testa che per i cosiddetti safe havens di cui i born governativi sono la principale espressione. Quali sono i fattori che spiegano questa dinamica? Fondamentale è stata la stabilizzazione del mercato obbligazionario americano con rendimenti soprattutto per la componente reale che sono rientrati dai massimi di fine marzo sulla scia di un'incessante comunicazione dovish da parte della Federal Reserve circa i tempi necessari anche solo per cominciare a considerare la possibilità di rimuovere lo stimolo monetario. Nel contempo le campagne vaccinali sono in fase molto avanzata negli Stati Uniti e in progresso quantomeno nelle ultime settimane in Europa. Infine fattori tecnici quali il calo della volatilità sia realizzata che implicita consente ai fondi sistematici di incrementare la leva finanziaria e la quota di esposizione azionaria nei portafogli. Non a caso gli Stati Uniti laddove i fattori indicati si sono manifestati con maggiore evidenza hanno fatto registrare le performance migliori in ambito azionario. S&P e Nasdaq sugli escudi con oltre 5% di rialzo nel mese a seguire Europa e Cina con 2% mentre in controtendenza il Giappone ha chiuso il rosso il mese di aprile. Maggio si presenta con un rischio di stagionalità negativa sui mercati azionari il cosiddetto selling may and go away che si è materializzato brevemente inizio mese e con più cattiveria all'indomani dei dati sull'occupazione e sull'inflazione americana relativi al mese di aprile. Il dato, sorprendentemente debole sul mercato del lavoro, sembra validare, almeno nel breve termine, la convinzione della Fed che la strada per il recupero dell'occupazione persa durante la pandemia sia ancora lunga e incerta e che quindi sia prematura a qualsiasi discussione circa l'inizio della rimozione dello stimolo monetario. Resta il nodo dell'inflazione, temporanea nelle aspettative della banca centrale americana ma che, nei dati più recenti, fa registrare un incremento molto forte bene al di là delle attese dei mercati. Sarà necessario attendere qualche mese ancora per capire se l'inflazione, in particolare quella salariale, possa rappresentare una minaccia alla posizione attendista della Federal Reserve. Nel frattempo l'amministrazione americana si prepara a varare ulteriori misure di stimolo fiscale per spese su infrastrutture per 2.3 milioni di dollari e di aiuti per le famiglie per 1.8 trilioni di dollari, in aggiunta al pacchetto già approvato in marzo di 1.9 trilioni di dollari. L'agenda fiscale americana assume non solo dimensioni senza precedenti nella storia postbellica, ma sembra presentare un carattere più permanente di quanto inizialmente ipotizzato, seppur finanziato in parte da aumenti delle tasse. Di qui il titolo del nostro ultimo webcast, Eccezionalismo americano rispetto al minimalismo europeo. L'Europa è infatti alle prese, da un lato con i tempi faticosamente lunghi di approvazione dei piani nazionali sui progetti e sulle riforme richieste per l'esborso delle risorse Next Generation EU, e dall'altro è minacciata da un pericoloso dibattito, in seno la BCE, sulla tempistica della graduale rimozione del programma pandemico, il PEP, che i falchi e il direttorio vorrebbero già annunciare in occasione della prossima riunione della Banca Centrale, il prossimo 10 giugno. Questo rischio di tapering si sta scaricando sul mercato obbligazionario europeo, con tassi in risalita soprattutto sui mercati periferici, come dimostra il rendimento del BTP decennale, in rialzo di 25 punti base nel mese di aprile e sull'euro in rialzo contro il dollaro da 1,17 a 1,21 nello stesso periodo. Questo non è giustificato dai fondamentali europei e rappresenta un serio rischio per la ripresa economica post pandemia.